In un comune di Parzanica, proprio sopra Tavernola, abbiamo quasi terminato il secondo lotto di villette e appartamenti con stupenda vista sul lago di Iseo e stiamo iniziando i lavori del terzo e quarto lotto rispettivamente di 17 e 30 unità abitative che saranno ultimate prossimamente. Visto il grande successo fin qui ottenuto, grazie alla qualità dei materiali, alle capacità della mano d'opera e non ultimo alla competitività dei prezzi proposti, vi invitiamo a curiosare anche attraverso una visita in cantiere per valutare le nostre proposte che di sicuro vi stupiranno. Per info telefono 347-333-9667. Amici sportivi, appassionati di calcio a 5 e ben ritrovati a tutti, di nuovo con voi sulle frequenze di Antenna 2, di nuovo a seguire quello che è il campionato, siamo nel gruppo Girode B, gruppo B del campionato del CSI e ci siamo portati in questa sesta partita del campionato a Gorle dove abitualmente gioca la formazione della Frigeni Moto, squadra diranica comunque. Allora, formazione della Frigeni Moto risicata davvero, sono proprio soltanto in 5, schierati da sinistra a destra in questo primo parziale con la completa tenuta rossa, squadra invece c'è il sole con già Paolo Fornoni alla conclusione ribattuta con la consueta tenuta tenuta nera. Allora, subito due cenni di cronaca, prima di quella attenzione c'è la difesa da parte di Daniela Zanoletti e credo che ci sia il calcio di rigore, ci sia il calcio di rigore proprio per il fallo commesso, si è rigore. Rigore e vediamo subito la trasformazione, mi pare che sia il numero 6 esattamente Valentino Nucetelli, Valentino Nucetelli contro Andrea Conti, conclusione il gol. Al primo del primo tempo su calcio di rigore il gol di Nucetelli per la formazione della Frigeni Moto che adesso deve subire subito la reazione della squadra avversaria, vediamo il fallo su Daniele Zanoletti, l'arbitro che è una vecchia conoscenza, vecchio vecchio per modo di dire, giocatore, vediamo fischi al calcio di rigore a favore della formazione della formazione del sole, calcio di rigore e dunque subito la possibilità di riportarsi in parità per la squadra di Valbondione, con attenzione la conclusione parata di Daniele Zanoletti. Dunque il rigore è sbagliato di Daniele Zanoletti, resta in vantaggio la formazione della Frigeni Moto, ma lasciatemi fare un po' di ordine anche perché la partita come avete visto è entrata subito nel vivo, allora innanzitutto la partita, le partite di settimana scorsa con le di Sole che ha battuto l'arredamento di Cortinovis per 6 a 2, del resto questa partita ve l'abbiamo mostrata, mentre la formazione della Frigeni Moto ha pareggiato contro la capoclassifica Sandrinelli per 1 a 1 fuori casa. A questo punto la classifica dice a 10 punti in 5 partite, dunque il campionato è equilibratissimo, ci sono dopo 5 partite a 10 punti 3 squadre, la Sandrinelli, il San Leone e i Santi bevitori, poi a 9 punti con 3 vittorie e 2 sconfitte, 4 squadre, appunto l'atletico Mica Tanto, il collettivo Confusione, il arredamento Cortinovis e naturalmente Lidi il Sole che è dunque seconda in classifica. Frigeni Moto, intanto c'è il gol di Paolo Fornoni, terzo minuto, 1 a 1. 1 a 1 la rete di Paolo Fornoni, subito a ristabilire le parità dell'incontro, la parità dell'incontro, dicevo comunque classifica che vede con 7 punti la Frigeni Moto e poi più dietro troviamo ancora questa incursione palla alta, troviamo altre 4 squadre, in particolare l'atletico Ranger a quota 6, Bergamo United, Virtus Suisio a quota 4 e la Real Conca 87 ancora a fermo a quota 0. Dunque partita decisiva soprattutto per veleggiare da parte della formazione di Valbondione, veleggiare nelle parti alte della classifica stessa. E adesso vi do le formazioni iniziando proprio da Lidi il Sole che schiera, questa è la formazione oggi presente con il numero 1 il portiere Andrea Conti, con il 3 Daniele Zanoletti, con il numero 6 in campo Fabio Semperboni con il 7 Donati, poi abbiamo Paolo Fornoni e attenzione il gol a sorpresa, gol a sorpresa, vediamo il numero 4, la rete del portiere, stavo guardando, grazie Paolo, Paolo Frigerio, dunque siamo al quarto minuto e direttamente sul tiro del portiere, il gol del 2-1. Tentorio il portiere che ha portato in vantaggio la propria formazione, ha riportato in vantaggio. Insomma non è il tempo nemmeno di spiegarvi le formazioni, dicevo in campo con il 7 Omar Donati, con l'11 Paolo Fornoni in panchina, Roberto Conti e Stefano Simoncelli, poi per quanto riguarda i giocatori dell'Edil Sole mancanti, Manuel Simoncelli ed Eric Donati, l'allenatore Fabiano Trivella. Per quanto riguarda la Frigeni Moto, vi ho detto, squadra diciamo davvero, formazione soprattutto risicata con 5 giocatori presenti e dunque dovranno giocare tutto il campo, adesso sono in vantaggio e vanno sul 3-1, qualche sbandamento, siamo al quinto minuto, gol a grappoli e la rete questa volta è ancora di Nucetelli che ha ricevuto dal proprio compagno, un po' in bambola la difesa dell'Edil Sole che ha già subito in 3 minuti, in 6 minuti 3 gole, questo ci stupisce un po'. Dunque formazione della Frigeni Moto in campo, in porta col 12 Tentorio, il 4 Moretti, il 5 Cassis con il 6, Nucetelli col setto Matteo De Paul, mancano il portiere titolare Omar Perlegrinelli, il numero 2 Matteo Telli, poi con il numero 3 il gemello di Matteo De Paul, vale a dire Mirko e con il numero 9 Alessandro Suardi. L'allenatore Gianluigi Panseri, accompagnatrice della figlia Erika Panseri per quanto riguarda la formazione della Frigeni Moto. Allora, visto che forse siamo riusciti a recuperare perlomeno l'arbitro dell'incontro, vi dicevo, è il signor Aldo Piccione. Arbitro giocatore soprattutto che ho avuto modo di osservare in tanti anni da quando sono sui campi di calcio, sia a 11, sia a 7, sia anche sul campo di calcio a 5, insomma devo dire che praticamente lui che ha 35-36 anni ha calcato un po' tutti i campi per quanto riguarda appunto la nostra provincia. Attenzione intanto per la conclusione da parte di Omar Donati e qui rientro in cronaca quando siamo al settimo minuto del primo tempo, 3-1 a favore della formazione di casa Frigeni Moto che ha un pochettino sorpreso la squadra avversaria, vedremo se riuscirà a recuperare Daniele Zanoletti, ancora c'è un fallo alle sue spalle, l'arbitro non lo fischia e allora si prosegue con Moretti, Moretti sul pallone, cerca di farsi vedere Moretti, controlla bene il pallone, tunnel su Semperboni, poi riparte Paolo Fornoni fermato, l'intervento di Donati, ancora Paolo Fornoni, Paolo Fornoni va al tentativo 1-1, riparte Nuccitelli, attenzione conclusione ribattuta da Donati e allora c'è il Nuccitelli che lascia, anzi no il pallone siccome la riga è quella rossa, quella rossa ricordo quella più lontana rispetto alla postazione della telecamera di Paolo Frigerio, allora andiamo a seguire ancora questa giocata sul pallone De Paul che scambia con Cassis, Cassis al proprio portiere, parte il lancio di questi, palla che spiove in area e il pallone ha brancato, brancato da Andrea Conti che scambia, Paolo Fornoni Semperboni anticipato e allora in 3-1 addirittura per la conclusione la bella parata di Andrea Conti, poi Paolo Fornoni che sbriga riesce a rilanciare, a far ripartire i suoi con questo lancio ma c'è il bel intervento in copertura da parte del portiere Tentorio, il pallone che termina abbondantemente alto sopra la parte opposta alla nostra postazione alla tribuna. C'è Roberto Conti che va a recuperarlo cercando anche un'arrampicata un po' fuori programma riesce comunque a farlo e allora si riparte con un pallone verde vistoso, pallone giocato da Tentorio direttamente in out, nono minuto, il risultato è sempre di 3-1 a favore della formazione in maglia rossa, completa tenuta rossa, Andrea Conti sul pallone, è libero e riceve Semperboni, Semperboni va al controllo, cede ancora dietro al proprio portiere che va vicino alla linea centrale del campo, parte la conclusione, palla alta sopra la trasversale della porta del numero 12 Tentorio, subito il pallone riconquistato, Omar Donati la cede a Paolo Fornoni, conclusione, pallone ribattuto, ancora Donati verso Semperboni, il tocco ancora Donati però sul lato del gioco, lato destro dove c'è la deviazione, la palla in fallo laterale, Fornoni, conclusione, bella la parata di Tentorio che si oppone con i piedi, palla in out, la rimessa in gioco, ancora Donati, ancora verso Fornoni che cerca ancora di liberarsi di un avversario, lo ferma Nucetelli in fallo laterale, la rimessa in gioco nella tre quarti, Donati verso Zanoletti, forse spinto, tutto regolare, molto arcigno il difensore, il numero 5 Cassis, attenzione, vieni in avanti, pallone perso, Fornoni sbriga la situazione e soprattutto fa ripartire la propria squadra con questo lancio, con il controllo di Zanoletti, ancora verso Fornoni, Fornoni che alza il pallone, non c'è però nessuno a cui darlo, al proprio portiere dietro, ancora il numero 11 della formazione dell'Alta Valseriana, va al tentativo uno contro uno, il passaggio invece è il tentativo di triangolo, palla in out, rimessa in gioco, Donati verso il portiere Andrea Conti, avanza Andrea Conti, un raso terra, palla sui piedi di Fornoni, Zanoletti, Donati, conclusione, poi scivola, conclusione ribattuta, riparte la Frigeni, ancora con questo tentativo e poi il controllo da parte del numero 5 Cassis che gioca verso Nucetelli, pallone dietro di Nucetelli al proprio portiere che cerca di far salire i suoi, tutti a ridosso quasi dall'area di rigore, la conclusione, palla deviata da Semperboni in maniera quasi involontaria e il pallone che va a sbattere sulla base del palo, c'è un cambio, esce Daniele Zanoletti e dentro Roberto Conti nelle file del Ledinsole, battuto il calcio di punizione col pallone da parte di Cassis, pallone verso il portiere Tentorio che ha già trovato la via della rete, scambia con De Paul, non so se la pronuncia è quella giusta, comunque fate voi, ancora Tentorio, attenzione, conclusione, la porta è sguarnita, conclusione di Fornoni, palla a fondo campo e qui naturalmente mentre siamo all'undicesimo del primo tempo, naturalmente questa tattica che già abbiamo sperimentato nelle partite precedenti può portare e causare qualche rischio, vale a dire il portiere che esce al limite dell'area, se arriva un contrasto non riesce più a recuperare come in questo caso, però la mira di Paolo Fornoni è risultata inesatta, dunque si resta sul 3-1 la successione delle reti, dopo un minuto il gol di Nucce Telli su calcio di rigore, poi un minuto dopo il rigore sbagliato da parte di Daniele Zanoletti per quello che poteva essere uno pari, uno pari che è arrivato un minuto dopo, realizzato da Paolo Fornoni, poi però al quarto di nuovo e questa volta un po' sorpresa la conclusione del portiere Luigi Tentorio per il 2-1 e al quinto, in pratica in 5 minuti 4 gol e più sul rigore sbagliato, ancora Nucce Telli a portare sul 3-1 la formazione del Frigeni Moto. Si rientra tenendo presente che siamo a un minuto, è stato recuperato, bisogna essere recuperato un minuto, non ci siamo interrotti, grande la conclusione da parte di Simone Moretti con Andrea Conti che risponde altrettanto bene deviando in calcio d'angolo, la battuta dello stesso Moretti verso il portiere, Frigeni avanza Fornoni a chiudere, tocco verso Cassis, ancora conclusione di Mirko Cassis, il pallone deviato ancora da Andrea Conti, altro calcio d'angolo, stanno giocando bene i ragazzi della Frigeni Moto, Frigeni Moto che finora ha realizzato 24 gol e di gran lunga, lo dobbiamo dire, anzi sì è di gran lunga il miglior attacco del campionato con 24 gol, lo dimostra insomma anche questa sera con questa capacità realizzativa fino a questo momento. Dobbiamo dire che i 24 gol in 5 partite rispondono, ci sono anche 14 gol subiti a dimostrazione che non sempre realizzare vuol dire far bene perché soprattutto se si subiscono anche dei gol questo va a vanificare il buon attacco che si mette in mostra, qui intanto c'è stata una trattenuta ai danni di Fabio Semperboni, l'arbitro ha dato la regola del vantaggio, stavo guardando che cosa aveva fatto in queste partite la Frigeni Moto, ha perso la prima con i Santi Bevitori per 4 a 3, poi ha vinto 8 a 2 contro il collettivo Confusione la seconda, poi ha vinto 9 a 1 contro il Real Conca la terza, dunque grappolo di gol, poi alla quarta la Frigeni Moto ha perso contro l'Atletica mica tanto per 6 a 3 in casa e quella di settimana scorsa vi dicevo l'1 a 1 primo pareggio dopo le 5 partite della formazione di Ranica, Frigeni Moto che lo voglio ricordare, è un negozio mi pare che abbia la propria sede a Nembro, conosco anche se non perfettamente il titolare e devo dire insomma un negozio che cura in particolare proprio le due ruote con motore, motociclette insomma, intanto vediamo attenzione tentativo Fornoni, bello il passaggio, va a chiudere bene Valentino Nucce Telli in pieno recupero, palla in calcio d'angolo, la rimessa in gioco da parte di Omar Donati che scambia con Roberto Conti che ha preso il posto, lo ricordo di Daniele Zanoletti, ancora l'1-2 con Paolo Fornoni, ancora Conti, il tocco sempre buoni, conclusione il suo tiro di collo pieno di destro, palla alta sopra la trasversale, con le mani il portiere Tentorio verso Cassis, alza la testa Cassis e va a toccare verso il proprio capitano, esattamente Simone Moretti, palla deviata in calcio d'angolo, rimessa in gioco, in fallo laterale, chiedo scusa, già effettuata, pallone dietro da parte di Moretti, poi sul pallone arriva De Paul, la palla prolungata, il colpo di testa, bello, a cercare qualcuno da parte di Nucce Telli ma non trova nessun compagno e l'azione termina in fallo laterale, rimessa in gioco, ancora il pallone manovrato da Conti, verso l'altro Conti, Roberto, l'altro il numero 1, il portiere, Roberto Conti, c'è una spallata però regolare secondo l'arbitro, Cassis, anzi no, Roberto Conti l'ultimo a toccare e dunque palla a fondo campo per la rimessa da parte del portiere, con le mani la lancia verso il capitano, poi qui c'è questo tentativo, l'ultimo a toccare proprio Moretti, palla in out, rimessa in gioco di Roberto Conti, movimento di Omar Donati, qui forse c'è un fallo, l'arbitro lo fischia, Lucce Telli dice di no ma mi pare di poter dire sicuramente il fallo c'è stato, perde il pallone, azione di contropiede, troppo arretrato questo pallone da parte di Cassis verso il numero 7 De Paul e poi ancora Paolo Fornoni esce il portiere Tentorio a branca e il pallone e riparte la formazione rossa e maglia rossa senza nulla di fatto, Andrea Conti scambia con Fabio Semperboni, Fabio Semperboni il passaggio lascia filtrare Daniele Paolo Fornoni, avanza la squadra avversaria, vediamo conclusione, ancora una bella parata da parte di Andrea Conti che in qualche modo riesce a deviare nel fallo laterale, sono pericolosissimi in attacco i ragazzi della Frigeni Moto, lo dimostrano con queste incursioni, sono un po' in bambola i ragazzi del Edilsole ma forse stanno soffrendo davvero l'intensità delle giocate di questi ragazzi di Ranica che stanno mettendo a dura prova la formazione che li sovrasta in classifica di due punti, vi il Edilsole tre vittorie e due sconfitte in cinque incontri, per quanto riguarda la Frigeni invece il tabellino dice, attenzione intanto Fornoni, il tabellino dice due vittorie, un pareggio e due sconfitte ed è proprio nel pareggio che ancora non sorride alla formazione delle Edilsole, la differenza della situazione in classifica. Con le mani Andrea Conti, diamo un'occhiata al cronometro, 19 minuti, fa fatica a recuperare anche il gol che potrebbe riaprire di improvviso la partita alle Edilsole, la rimessa in gioco con attenzione ancora Roberto Conti, il pallone in gol, Roberto Conti ha preso il palo poi è rimpallato, ma da assegnare proprio a Roberto Conti questo gol al diciannovesimo. 3-2, partita riaperta dunque con questo gol da parte di Edilsole, che ha ancora un minuto o forse due di tempo da giocare per poter cercare il recupero, ma attenzione ancora la bella conclusione, Nucetelli, il portiere non riesce, Andrea Conti ad evitare che il pallone termini dopo la deviazione oltre la linea di delimitazione del terreno di gioco, battuto il calcio d'angolo, Tentorio sul pallone, alza la testa Tentorio, preferisce non tentare, non è un gioco di parole, assolutamente nulla, scambia con De Paul, poi con Cassis, ancora Cassis in possesso del pallone, dietro al proprio portiere Paolo Fornoni a chiudere, il tocco a seguire da parte di Moretti, si era spostato al centro invece Nucetelli, nulla da fare, palla a fondo campo, anzi palla laterale, già effettuata la rimessa, Andrea Conti verso Omar Donati che litiga un po' col controllo, la palla termina fuori e la rimessa è a favore della formazione in maglia rossa, proprio quando sta per scoccare il ventesimo minuto, calcio di punizione, calcio di punizione, vediamo, c'è solo Omar Donati in barriera, vediamo, non vogliono scoprirsi, adesso va anche Roberto Conti, Moretti, Moretti, conclusione, palla deviata proprio da Roberto Conti in calcio d'angolo, manca ormai pochissimo alla conclusione dei primi venti di gioco, 3-2 per la Frigeni Moto che va a battere l'angolo con Matteo Depol proprio su questo retropassaggio, arriva il fischio di Aldo Piccione, l'arbitro dell'incontro che chiama le due squadre a riposo dopo 21 minuti di gioco intensi, 3-2, 5 gol, 4 di questi gol nei primi 5 minuti più il rigore sbagliato non realizzato per meglio dire, perché dobbiamo dire che è stato bravo anche il portiere Tentorio a parare il rigore calciato da Zanoletti, comunque partita ancora apertissima. In Comune di Parzanica, proprio sopra Tavernola, abbiamo quasi terminato il secondo lotto di villette e appartamenti con stupenda vista sul lago di Zeo e stiamo iniziando i lavori del terzo e quarto lotto rispettivamente di 17 e 30 unità abitative che saranno ultimate prossimamente. Visto il grande successo fin qui ottenuto, grazie alla qualità dei materiali, alle capacità della mano d'opera e non ultimo alla competitività dei prezzi proposti, vi invitiamo a curiosare anche attraverso una visita in cantiere per valutare le nostre proposte che di sicuro vi stupiranno. Per info telefono 347-333. Sono tornate sul terreno di gioco, amici sportivi, le due formazioni con la maglia rossa in questo secondo tempo, da destra a sinistra la formazione Frigeni Moto e con la maglia tenuta completamente scura, tenuta nera, è solo di Valbondione. Siamo nel campionato del CSI di calcio A5, girone B, gruppo B dove la formazione, attenzione qui c'è l'errore con il passaggio da parte di Moretti che pensava di trovare Nucetelli pronto alla deviazione, Nucetelli che si era spostato al centro e l'errore dunque, attenzione Omar Donati, il pallone non riesce ad agganciarlo come voleva, gli sfugge un metro avanti e non riesce dunque a realizzare. Dobbiamo dire che comunque la partita è apertissima al termine dei primi 20 minuti di gioco, risultato di 3 a 2 a favore di Frigeni Moto, questa squadra che ha messo alla frusta gli avversari, attenzione Donati il tocco bellissimo di, anzi Roberto Conti chiedo scusa, tocco di esterno destro con la palla che è simila, anche se non fortissima vicino al palo di destra per noi che guardiamo della porta difesa da Tentorio. Intanto c'è stata una conclusione deviata da Conti, calcio d'angolo e ancora una volta Conti chiamato a una splendida deviazione perché il tiro era potente e preciso. Dall'angolo la battuta riparte Conti, Conti e questa volta il portiere Tentorio, il portiere Tentorio a distendersi e andare a ribattere sul tiro ravvicinato e qui c'è attenzione calcio di rigore, proteste da parte dei giocatori della squadra in maglia rossa nei confronti di Aldo Piccione. L'arbitro ben posizionato sta spiegando ai giocatori avversari e mi pare di poter dire che una spinta c'è stata. Paolo Fornoni la palla del tre pari, attenzione, con il portiere Tentorio che è quello che protesta più di tutti. Sicuramente un contatto c'è stato, adesso non ditemi se è da rigore o meno, lascio giudicare a voi che certamente avete visto. Allora vediamo, vedete Piccione l'arbitro, attenzione Paolo Fornoni, conclusione! Altra grande respinta da parte del portiere Ammonito, Ammonito per il gesto di reazione, il portiere Luigi Tentorio ce l'è presa con il palo, ha fatto una bella parata, non l'ho capita bene, sono un ragazzo che probabilmente caratterialmente si vede che sicuramente ha la sua e ha qualcosa da vendere. Tanto si riprende due calci di rigore dunque non realizzati dalla squadra del Lady Il Sole che resta sotto 3 a 2. Mentre vediamo in avanti questo tentativo Nucce Telli, ferma il pallone, lo cede dietro Moretti, colpo di tacco, arriva il portiere, riesce a rinviare Andrea Conti. Palla in fallo laterale, all'altezza dalla linea centrale del campo per la rimessa di Cassis effettuata, Nucce Telli cerca di farsi vedere, bravo questo numero 6, soprattutto veloce col pallone fra i piedi, il rinvio, colpo di testa di Omar Donati si appoggia, Nucce Telli sulle spalle dell'avversario, battuto il calcio di punizione, Andrea Conti, pallone verso Semperboni, un po' troppo lungo e la palla termina a fondo campo. Non cambia la situazione, siamo sempre sul 3 a 2 a favore della formazione, Maglia Rossa che adesso va alla conclusione da parte del capitano Moretti, palla altissima però ha avuto sul pallone, ha avuto sul piede il pallone del 4 a 2, ha sbagliato la porta, con le mani il portiere Conti non trova nessuno, allora riparte la formazione tra virgolette di casa, con il portiere Tentorio con le mani, chiedo scusa con i piedi, la sua conclusione e con le mani la respinta dall'altro portiere Andrea Conti che già era stato trafitto nel primo tempo, proprio più o meno a questo minuto della partita, naturalmente nei primi 20 minuti, vale a dire al quarto minuto di gioco. Allora attenzione, viene avanti ancora Luigi Tentorio, nessuno a contrastarlo, esce adesso dalla fase di copertura Omar Donati, con le mani il portiere visto che la palla è terminata alta, attenzione Roberto Conti e c'è il gol di Nucetelli 4 a 2, errore di Roberto Conti e Nucetelli quando siamo al quinto minuto. Dunque tripletta di Nucetelli che porta i suoi sul 4 a 2, a questo punto diventa di nuovo in salita, già lo era prima la partita per la formazione di Valbondione che deve recuperare a questo punto due gol di ritardo, pallone toccato Donati ancora verso Conti, Conti va al dribbling, è un po' fermo Conti rispetto al solito, vediamo il pallone, forse colpito con un braccio di Adamoretti che avanza, è bravo a chiudere Conti, Andrea Conti, pallone non controllato da Fornoni, riparte ancora Nucetelli per la conclusione di Cassis, sopra la trasversale, in velocità stanno giocando davvero in maniera troppo veloce per i ragazzi dell'Edilsole, questi ragazzi della Frigeni Moto, mettendo alla frusta se vogliamo, forse più tecnici ma naturalmente un pochettino più lenti, guardate anche qui l'anticipo di Cassis mentre è libero De Paul, il gol del 5 a 2, il settimo minuto De Paul 5 a 2, adesso diventa davvero dura per la squadra dell'Edilsole recuperare questi tre gol per quanto meno raggiungere la parità, calcio battuto, l'uscita dalle linee difensive da parte di Moretti, sono qua solo in 5 ma corrono davvero tantissimo i ragazzi del Frigeni Moto che stanno davvero impegnando sotto l'aspetto del gioco ma soprattutto davvero dalle giocate e poi dalle realizzazioni degli avversari, avversari che sono sotto 5 a 2 altra situazione di pericolo, la chiude bene Fabio Semperboni la rimessa a favore della formazione di Valbondione, Fabio Semperboni che va alla giocata verso Conti con le mani il portiere Tentorio riesce ad allontanare e poi ancora per la rimessa da parte di Andrea Conti con Paolo Fornoni e qui la sfortuna, prima la traversa e poi una casuale deviazione nega il gol del 3 a 5 a Paolo Fornoni, l'avrebbe certamente meritato, peccato veramente, un po' di sfortuna, il bel colpo di testa, non se l'aspettava il portiere Tentorio ma è stato bravo Paolo Fornoni, bravo e nello stesso tempo sfortunato. 5 a 2 anzi per la squadra in maglia rossa, ripeto sta giocando con una velocità e soprattutto con azioni rimessa, la vedete inquadrata adesso dal nostro Paolo Frigerio, la formazione della Frigeni Moto sta giocando con una intensità non sempre facile da vedere, dobbiamo dire che a questo punto il risultato e soprattutto il vantaggio dove appunto in questo momento si trova la squadra di Ranica è completamente meritato. Si riparte, si riparte con questo triplice svantaggio del Lady il sole, quando il cronometro dice 8 minuti già comprensivo del minuto di recupero, del minuto di sospensione, 8 minuti 12 al termine, bisogna realizzare 3 gol per raggiungere almeno il pareggio. Semperboni, attenzione, la conclusione, palla deviata, resta lì e allora riparte ancora la formazione in maglia rossa, vediamo ancora sulla palla c'è Moretti, Moretti lo ferma questa volta Semperboni. Semperboni che è andato a chiudere il capitano Simone Moretti con le mani De Paul, poi ancora questo lancio, ancora Moretti controlla bene, tocca proprio verso De Paul, tentorio con le mani Andrea Conti e subito a cercare l'altro Conti Roberto, c'è il fallo commesso da Andrea Conti nei confronti del numero 7 Matteo De Paul, calcio di punizione affidato a Cassis, battuta fuori misura, ha tentato di sorprendere il portiere, palla che è terminata a fondo campo. Ci avviciniamo alla metà di questo secondo tempo e ripeto per la squadra ospite si fa veramente dura recuperare questi 3 gol di svantaggio con il quale appunto la squadra allenata da Fabiano Trivella si trova. Vediamo, già battuto il calcio e la rimessa ancora un pallone bellissimo, Nucetelli 6 a 2, quarto gol per Valentino Nucetelli siamo all'undicesimo, 3 dunque 1, 2, 3, 4 gol di Nucetelli sul rotondo punteggio di 6 a 2, lo stesso punteggio con il quale la formazione di Val Bondione aveva tutto l'allenamento di Cortinovis settimana scorsa ma soprattutto si conferma, attenzione Conti, pallone che passa sotto il corpo del portiere Tentorio ma non arriva oltre la linea della rete e dunque si ferma lì, anzi c'è ancora da parte della formazione da Frigini Moto la conclusione di Nucetelli, palla alta dicevo comunque c'è il cambio per quanto riguarda la squadra ospite, rientra Daniele Zanoletti, esce Roberto Conti, Roberto Conti che non è riuscito ad allenarsi settimana scorsa che mi pare non ci fosse a dimostrazione insomma che se non ci si allena non si ha la possibilità guardate con quale velocità vanno avanti e indietro i ragazzi della Frigini Moto, è entrato Stefano Simoncelli, qui c'è una conclusione e poi attenzione, rigore, rigore causato da Omar Donati, è arrivato Nucetelli da dietro, gli ha carpito il pallone, Omar Donati l'ha toccato e vedete che Aldo Piccione sta spiegando la sua scelta, allora possibilità del quinto gol da parte di Nucetelli, vediamo conclusione, gol siamo al tredicesimo minuto, 14, 12, dodicesimo minuto, Nucetelli porta sul 7 a 2 la propria squadra e qui credo che veramente per la squadra di Valbundione non ci siano più possibilità di recuperare questi 5 gol, veramente tanti, aveva chiuso 3 a 2 il primo tempo, nel giro di 12 minuti ha subito altre 4 reti senza realizzarne, la differenza sta tutta qua, guardate questi ragazzi giocano bene, niente da dire, ancora la conclusione questa volta da parte di Matteo De Pol con la palla deviata in calcio d'angolo per la rimessa, per la battuta dal calcio d'angolo di sinistra, da parte di Nucetelli che chiama al disimpegno il proprio portiere tentorio, conclusione di tentorio, palla deviata in fallo laterale con la schiena da Fabio Semperboni che sicuramente dovrà, attenzione ancora Nucetelli, ancora Andrea Conti, si fa male anche Andrea Conti, a dirgli di no, Zanoletti, Zanoletti e riesce a fermarlo, Cassis riparte ancora e sono troppo veloci, niente da fare, davvero grande velocità per la squadra in maglia rossa che sta mettendo a dura prova anche la resistenza fisica dei ragazzi di Valbondione che fanno fatica a recuperare e non a caso insomma sono riusciti a ribattere le azioni degli avversari nei primi e soprattutto nel primo tempo, poi sono calati un po' la distanza nel secondo tempo e infatti questa distanza e soprattutto questa fatica la stanno pagando, ancora bello il disimpegno, c'è la possibilità adesso, il fallo di Nucetelli su Daniele Zanoletti, calcio di punizione, la tre quarti sulla destra, il tempo scorre, 14 minuti del secondo tempo, 7 a 2 risultato, Daniele Zanoletti alla battuta, arriva anche Stefano Simoncelli, oggi più che mai ci voleva davvero Manuel, attenzione Daniele Zanoletti, tenta il dribbling, fermato da Nucetelli, poi il pallone ancora in campo, rientra Daniele Zanoletti in possesso, fa partire un bel sinistro, palla deviata in calcio d'angolo dal portiere, ancora la conclusione di Daniele Zanoletti, devia in fallo laterale, Cassis rimessa in gioco, Simoncelli verso Omar Donati, Daniele Zanoletti in due su di lui lo fermano, riparte velocissimo, Nucetelli ancora sicuramente il migliore dei suoi per il destro conclusivo di Simone Moretti, palla non troppo lontana comunque a fondo campo, pallone giocato bene questa volta da Omar Donati, non ce la fa Stefano Simoncelli, attenzione, va a toccare l'avversario e qui c'è la conclusione di Moretti mentre Stefano Simoncelli ha aiutato a rialzarsi il numero 7 avversario Matteo De Paul, rimasto infortunato nell'azione precedente, c'è il cambio, esce Omar Donati, rientra Roberto Conti, ormai mancano 4 minuti al termine, più o meno 16esimo se non vado errato, 5 quasi, mi dice Roberto Conti, mi dice Paolo Frigerio chiedo scusa mentre Andrea Conti va a raccogliere il pallone, riparte, attenzione Roberto Conti, Daniele Zanoletti perde un attimo l'equilibrio, riesce a toccare verso Stefano Simoncelli che scambia ancora con Roberto Conti, non riesce, bravo Stefano Simoncelli, non riesce però a distribuire, poi la deviazione è l'ultimo a toccare, è proprio il giocatore con il numero 13 sulla schiena e allora la rimessa in gioco, è a favore della formazione da Frigeni Motto, eccolo qui Cassis, tocco dietro, conclusione di Simone Moretti e la palla alta sulla trasversale ma sembra quasi un tiro a segno, davvero non c'è molto scampo per la squadra, la porta è vuota, fortunoso il rimpallo sui piedi di Matteo De Paul, conclusione di Daniele Zanoletti, palla deviata e poi qui Roberto Conti ancora pallone perso, lo sospingono in avanti, ma ormai è veramente difficile poter recuperare per Valbondione questa partita, anzi credo proprio sia quasi impossibile perché ha 5 gol contro questi ragazzi che stanno correndo ancora come correvano nella prima frazione di gioco, qui non si capisce Zanoletti con Simoncelli e allora riparte Moretti, bravo a ripiegare, a controllare di prima la palla per, attenzione, fallo di mano da parte di Cassis, vede bene Aldo Piccione l'arbitro dell'incontro, calcio di punizione, posizione abbastanza centrale però lontana se vogliamo dallo specchio della porta e qui bisognerà tentare se è possibile una soluzione diretta oppure un appoggio a un giocatore vicino, Stefano Simoncelli, sarà proprio lui ad andare a coprire tre uomini in barriera, poi vediamo Fabio Semperboni si sposta qui sulla destra, Daniele Zanoletti a creare disturbo al portiere Tentorio, Stefano Simoncelli palla deviata dalla barriera termina in calcio d'angolo. Tre minuti al termine più l'eventuale recupero 7 a 2 per Frigeni Motto non avrei mai pensato anche se i 24 gol realizzati facevano pensare a una gran bella squadra questa diranica in effetti è proprio stato così ma non avrei mai pensato che appunto forse perché essendo solo in cinque magari si pensava che potessero calare sul lato fisico, l'aspetto fisico e invece così non è stato tant'è che appunto stanno correndo ancora anche se ultimamente hanno diciamo rallentato un po' il ritmo però si presentano ancora con Nucetelli che poi va al cucchiaio senza trovare lo specchio della porta. Davvero ancora una gran bella azione e la gran bella risposta da parte di Andrea Conti. Roberto Conti errore e si presenta Moretti per l'8 a 2. Diciottesimo il gol di Simone Moretti ed è sto guardando il eh no eh depol il primo gol di Moretti nonostante abbia disputato una bella partita e ha realizzati cinque la formazione la formazione in maglia rossa con Nucetelli poi un gol ciascuno eh il portiere Tentorio poi eh depol e adesso Moretti per il l'8 a 2. 8 a 2 la dice lunga sulla supremazia di questi ragazzi nulla da disquisire sul risultato forse colti un pochettino impreparati dobbiamo dire così i ragazzi di Valbondione che pensavano magari di scendere e far eh man bassa qui al bellissimo impianto palazzetto lo sport di Gorle un impianto sportivo davvero di quelli da non eh diciamo così spesso sovente noi siamo abituati magari a criticare i nostri comuni perché non fanno non riescono a ottenere qualcosa di importante invece dobbiamo dire che qui a Gorle effettivamente effettivamente eh il comune di Gorle ha costruito un impianto sportivo davvero eh di eh grande spessore dobbiamo eh certamente dire così intanto ci avviciniamo ormai siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco anzi proprio in questo preciso istante l'arbitro Aldo Piccione manda le due squadre a riposo otto a due due rigori sbagliati ma forse non andavano a sancire quella che era la diversità dei valori in campo perlomeno in questa partita perché i ragazzi i ragazzi della Frigeni moto davvero sono riusciti sono riusciti a eh sovrastare gli avversari dall'alto di una certa velocità qualche piccola discussione eh che credo non possa cambiare quello che è successo sul terreno di gioco vince Frigeni moto sale a quota dieci e dunque arriva la terza sconfitta in tre partite tre vittorie e tre eh sconfitte per l'edil sole di Valbondione che eh per la prima volta esce dal eh dalla partita eh sul campo esterno esce sconfitto comunque questo ripeto non vanifica il buon campionato che sta facendo la squadra allenata Fabiano Trivella e a questo punto ribadiamo ancora otto a due a favore della Frigeni moto eh fra un attimo le interviste che andremo a realizzare sul terreno di gioco grazie anche al supporto di Paolo Frigeri ed eccoci qua con Valentino Nucetelli il goleador della serata cinque gol degli otto con i quali la squadra la sua squadra Frigeni moto ha battuto l'edil sole di Valbondione e pensare che erano qua in cinque dunque tutti i contatti risicati i ragazzi della Frigeni e invece hanno dimostrato forse che la classifica è bugiarda dobbiamo dire così sì il fiato è corto infatti no vabbè abbiamo avuto un po' di sfortuna nelle altre partite oggi è andata bene ero in forma però anche la squadra abbiamo corso tanto e i risultati si sono visti certamente io posso dire davvero così l'ho detto anche in cronaca sicuramente la diversità della partita è stata sull'intensità con la quale voi avete giocato avete superato gli avversari proprio con la velocità sì è vero anche con gli 1-2 siamo andati in porta abbiamo infatti il terzo gol è nato da un contropiede gestito bene e infatti è arrivato il gol e sono arrivati altri insomma a questo punto 24-8-32 vieni Fabiano 24-8-32 in sei partite dove volete arrivare qui state facendo gol a raffica anno scorso mi hanno detto che hanno perso il campionato all'ultima all'ultima giornata quest'anno io spero è il primo anno che sono qua spero di di riuscire ad andare nel giro ne ha questi questi cinque gol si sommano quanti altri in questo campionato altri dieci perciò sei già a quota 15 sì faccio i complimenti davvero perché hai fatto tutti tutti voi cinque avete fatto una buona partita grazie anche a voi ciao ciao eccoli qua i due mister Fabiano Trivella un po' corrucciato lo dobbiamo dire del Valbondione Gianluigi Panseri mister di questa Frigeni Moto che se mi permetti vado con gli sconfitti dai anche perché insomma masticare un 8-2 quest'anno è la prima volta con un punteggio così largo Fabiano sì siamo venuti dal 6-2 in casa e probabilmente un po' troppo carichi siamo venuti giù per fare una bella partita ma sul campo un po' grande per noi ci hanno infilato tutte le volte che venivamo giù i tiri in porta erano sempre precisi e poi non ci siamo riusciti a sfruttare i due rigori che abbiamo avuto e non solo da lì loro migliori anche se erano in cinque non ci siamo mai riusciti a contenerli e è uscita vabbè 8-2 un po' pesante il risultato per carità ma tu sai che nel calcetto insomma ci può stare del resto il fatto che questa fosse una bella squadra si poteva anche presupporre dai 24 gol realizzati finora in cinque partite la media è quasi di cinque gol per partita prima di questa sì in quello non abbiamo visto la classifica i gol fatti e i gol subiti quelli non abbiamo visti però sicuramente è una bella squadra vabbè tre vittorie e tre sconfitte oseremmo dire che comunque siete in tema con quello che erano le previsioni sì per la salvezza siamo entrati in questo campionato nel gruppo B siamo partiti magari male ma adesso stavamo andando bene e poi arrivano subito le batoste noi non abbiamo sfruttato bene le occasioni e loro invece le hanno sfruttate benissimo e la partita lo dobbiamo dire si è risolta proprio sulla velocità loro ripartivano 1-2 in maniera veloce tagliavano fuori la difesa forse stasera più che mai la senza togliere nulla chi ha giocato di Manuel Simonciani si è sentita sì un po' di carica lui la da sempre dietro la da sempre però vabbè stasera magari ripeto un campo così grande per noi che siamo abituati a giocare un po' sul piccolo ci siamo un po' persi vabbè alla prossima dai bene sì grazie Fabiano e andiamo con Gianluigi Panseri allora festeggia questa terza vittoria del campionato tre vittorie un pareggio due sconfitte e soprattutto questo primato in class in per quanto riguarda l'organizzazione dei gol primato perché 32 punti in sei partite non sono da sottovalutare sì noi infatti abbiamo un buon attacco e diciamo che sui campi grandi noi invece ci andiamo meglio perché ci siamo abituati con il nostro che è di buone dimensioni e facciamo fatica su quelli piccoli perché non abbiamo gli spazi e probabilmente noi lavoriamo tanto sulla corsa e sulla velocità nonostante eravamo in cinque non abbiamo potuto fare neanche nessun cambio perché all'ultimo momento abbiamo avuto due defezioni uno per lavoro e uno per infortunio e diciamo ce la siamo cavata comunque bene certamente dopo il campionato come abbiamo sentito anche da Nucetelli sfuggito proprio l'ultima partita nella passata stagione che sia la volta buona quest'anno? ma non lo so sarà un po' difficile perché fra l'altro abbiamo il portiere diciamo titolare che è infortunato e da tutto l'anno che ci manca si è fatto male prima di iniziare purtroppo è ancora fuori il portiere che avevamo su oggi uno che gioca uno che gioca bene in difesa e diciamo che è il secondo portiere perché il primo appunto non c'è è stato messo in porta per necessità è stato messo in porta per necessità però se l'è cavata bene se l'è cavata bene il portiere che abbiamo noi è quello che c'era seduto con me là in panchina purtroppo non può giocare perché è infortunato l'anno scorso diciamo siamo arrivati secondi sì secondi potevamo anche vincere perché ci hanno detto che forse eravamo la squadra migliore però vabbè buon viso a cattivo gioco il campo ha detto questo certo che qui da quello che ho visto stasera questo Nucetelli c'è qualcosa in più infatti l'anno scorso con noi non c'era è stato un nuovo inserimento diciamo molto valido giovane e non si ferma mai diciamo è con motorino ma soprattutto vede bene la porta vede bene la porta infatti infatti sì poi ne abbiamo un altro che era nuovo anche quello che purtroppo si è infortunato anche quello fuori tutta la stagione perché si è fatto male e bene anche quello però purtroppo andiamo avanti così se però la squadra è questa sicuramente a quello che abbiamo visto stasera vi divertirete avevamo un po' paura perché diciamo in 5 qui in casa col campo così grande non aveva mai mai giocato già una volta ci è capitato quest'anno però è la squadra che abbiamo giocato diciamo era la portata potevamo vincere perché e di fatto abbiamo vinto anche l'ultima volta a 9 o qualcosa perché si vede che era proprio un po' scarsa quella squadra penso non lo so comunque stasera avevo un po' paura perché diciamo questi li abbiamo già incontrati anche nel girone precedente prima che venessimo su nel girone ci siamo andati su a a Val Bondione non so se si ricorda abbiamo intervistato ancora avevano sempre vinto in casa mi sembra dopo un po' di partite e abbiamo vinto anche là e va bene insomma siete partiti siete partiti un pochettino col freno a mano perché due sconfitte non erano in preventivo ma adesso avete trovato forse il nuovo assetto sì d'accordo sì è proprio così bene buon campionato anche alla Frigeni Moto ci rivedremo alla partita di ritorno a Val Bondione vedremo a quel punto come sarete grazie e complimenti grazie bene terminiamo qui dunque anche questo nostro appuntamento dedicato in particolare al calcio a 5 una batosta per la formazione del presidente Donati che masticherà Amaro in questa settimana ma avrà tempo per rifarsi già da settimana prossima grazie a Paolo Frigerio dietro alla telecamera a tutti voi che avete avuto la bontà di seguirci ci vediamo come di consueto al palazzetto dello sport di Val Bondione proprio fra sette giorni grazie buona settimana a tutti a risentirci in comune di Parzanica proprio sopra Tavernola abbiamo quasi terminato il secondo lotto di villette e appartamenti con stupenda vista sul lago di Iseo e stiamo iniziando i lavori del terzo e quarto lotto rispettivamente di 17 e 30 unità abitative che saranno ultimate prossimamente visto il grande successo fin qui ottenuto grazie alla qualità dei materiali alle capacità della manodopera e non ultimo alla competitività dei prezzi proposti vi invitiamo a curiosare anche attraverso una visita in cantiere per valutare le nostre proposte che di sicuro vi stupiranno per info telefono 347 333 9667